E' stata inaugurata sabato scorso al Centro Arti Visive di Pesaro la collettiva dal titolo Spiaggia Libera Arte Fotografia Ricerca che raccoglie i lavori di 30 artisti provenienti da tutta Italia. Gli autori nello scorso febbraio avevano partecipato ad un progetto digitale didattico curato dall'Associazione Culturale Centrale Fotografia e gli incontri online condotti dal presidente Marcello Sparaventi avevano posto in evidenza i controversi temi esistenziali che riguardano la contemporaneità partendo dall'analisi dei principali autori internazionali. Abbiamo esposto 26 progetti allo spazio bianco di Pesaro in via Zongo 45, una mostra che tra l'altro si potrà vedere il venerdì, sabato e domenica fino al 13 giugno dalle 17.30 alle 19.30. La mostra viene esposta in occasione della 12esima edizione di Centrale Festival, l'evento dedicato all'immagine contemporanea che si svolgerà dalla prossima settimana alla Rocca Malatistiana di Fano. Alla Rocca verranno presentati 30 artisti che occuperanno ogni angolo, anche i più misteriosi della Rocca Malatistiana. Quindi durante le giornate inaugurali dell'11, 12, 13 giugno con la direzione artistica di Luca Panaro potremmo assistere anche a dei talk, degli incontri, presentazioni di libri, visite guidate per in qualche maniera avvicinarsi a questo grande linguaggio che è quello della fotografia di ricerca.